A Villa San Martino aumentano i servizi dal parco avventura alla cittadella del basket e per questo motivo servono nuovi parcheggi. Il Comune di Pesaro è al lavoro per trovare la soluzione migliore in condivisione con i cittadini. Rispetto alle esigenze di parcheggi, con il nuovo intervento che si andrà a realizzare, sono richieste ulteriori da parte dei residenti, da parte dell'attività, sono richiesti giustamente maggiori stalli, maggiori posti auto. Ed è per questo che stiamo lavorando, stiamo valutando diverse soluzioni per andare a trovare e individuare la soluzione migliore proprio per la sosta. Non c'è un progetto ad hoc già in essere per cui a breve andremo a cementificare sul verde, tutt'altro. Stiamo valutando diverse soluzioni, una di queste realizzabile nel giro di brevissimo che consentirà, grazie al lavoro con l'assessore della Dora e con Enzo Belloni, di andare a realizzare 52 stalli lungo via Paganini, quindi lungo la strada, in un'area già compromessa, perché oggi è zetto di strada oltre che di pista ciclabile, mentre si stanno valutando ulteriori aree. E qualsiasi scelta che andremo a fare andremo sicuramente, e questo l'ha già detto anche il sindaco, a concertarla con il quartiere, quindi nell'assemblea pubblica, insieme ai residenti, insieme al consiglio di quartiere, in modo tale che ci sia una scelta condivisa rispetto all'intervento che si andrà a fare. Le parole dell'assessore Pozzi spengono le polemiche dei giorni scorsi, quando si è parlato della possibilità di realizzare dei nuovi posti auto nell'attuale area verde della scuola Don Bosco. Villa San Martino necessita di nuovi parcheggi, lo confermano i residenti del quartiere. Ai nostri microfoni. Io sono d'accordo. Perché? Perché è desiguale, perché noi che abitiamo qui, tra la scuola e tra i bambini all'azzo, non usciamo di casa. Una volta mia nipote col passeggino non è riuscita a entrare dentro casa, ha dovuto fare tutto il percorso per dietro e passare dai garage. Quindi io penso che sia necessario. Qui bisogna fare quello che serve. La storia, il verde a me piace, ma quando vado in giro con la macchina che non trovo un parcheggio, mi incazzo, no? E allora, di conseguenza, può essere giusto. Qui c'è una carenza di parcheggi, effettivamente? A Pesaro c'è, insomma dai, a Pesaro c'è, specialmente lì vicino all'ospedale, è una cosa impossibile trovare un buco. Per esempio, io vado, viaggio in bicicletta fortunatamente, ancora. Si potrebbe fare il parcheggio utilizzando questo piccolo spiazzo verde qui, semplice. Perché io abito qui a pochi centinaia di metri, quanto escono da scuola, arrivano da scuola, è il caos totale. Però si andrebbe a togliere uno spazio verde, cosa ne pensa di questo? Di verde ne abbiamo tanto, tanto non si può aver tutto, se serve, serve. Io sarei molto soddisfatto se ci fossero altri parcheggi. Perché? Perché quelli che abbiamo qua, alle nostre strutture sportive, non sono sufficienti. Però si andrebbe a togliere uno spazio verde alla scuola? Ne abbiamo tantissimo di verde, fortunatamente. L'area sport di Via Togliatti a Villa San Martino si prepara ad accogliere la cittadella del basket, una struttura importante che probabilmente diventerà il fiore all'occhiello della città pesarese. Il comune di Pesaro è riuscito a intersettare un bando del PNRR molto importante per la città di Pesaro. Si andrà a realizzare il nuovo centro federale della Palacanestro, quindi la sede della FIP avrà luogo in Pesaro. Un bando che è anche motivo di orgoglio e di soddisfazione per la città. Se pensiamo che Pesaro possa diventare, per intendersi, quella che è la Coversano per il mondo del calcio, lo sarà per la Palacanestro, dove abbiamo visto anche in questi giorni come il clima di Palacanestro si respiri veramente nella vita di tutti i giorni. E quindi Pesaro avrà questa opportunità. Questo significa che in quell'area andremo a realizzare una palestra e una parte di servizi collegati ad ospitare la sede della FIP e poi a completare, e questa sarà anche l'opportunità per completare la piscina di Via Togliatti.